All'erba delle nuove disposizioni che prevedono nuove misure cautelative a fronte del contagio anti-covid, continuo le proteste da parte della popolazione e da miopi non vedere che ormai la gente non canta più su balconi ma scende in piazza a reclamare. Ci troviamo adesso davanti ad una scuola, ma ahimè non è indirizzato assolutissimamente a questa scuola ma bensì alla problematica generale che tutti i bambini d'Italia stanno vivendo in queste ultime ore. A parte il distanziamento, a parte le distanze che avrebbero dovuto prendere i bambini, sono costretti a indossare per sei lunghe ore la mascherina durante tutta l'attività scolastica. Quindi fra le varie, fra le moltissime lamentere ma soprattutto preoccupazioni che i genitori fanno emergere, io ho qui accanto un papà insieme ad Arianna che appunto avendo anche la bambina porta gli occhiali. Una cosa in più che io sono qui a reclamare è questa cosa in primis quando riguarda la mascherina perché sono sopportato dai medici che ho interpellato quindi la pediatria siracusana e quant'altro che stamattina dovevano essere qui con me a testimoniare questa cosa, del problema gravissimo che può comportare la mascherina a così prolungato tempo. Dunque bambini stiamo parlando di sei anni che devono stare cinque ore e mezzo con la mascherina e che non possono nemmeno abbassare e respirare col nasino. A maggior ragione, dico mia figlia, ma come tanti altri bambini che c'è negli occhiali, c'è l'aggravante che gli occhiali si appannano e quindi non riescono ad essere né concentrati, ad essere disturbati, ad essere con un handicap esagerato e quindi secondo me non in grado di portare avanti un discorso scolastico in modo sereno. Ora la cosa preoccupante, questa è una delle cose di cui mi preoccupo che non è poco perché sono qua per imparare altrimenti ci ritorniamo a casa perché se non posso essere concentrati e bensì disturbati tutti questi accessori messi addosso non ha senso. La seconda cosa è il problema che possono avere queste mascherine a lungo termine perché i medici parlano che il problema non sussiste se le indossiamo una settimana o due, ma qui il DPCM non parla chiaro, il DPCM parte stamattina ma non sappiamo fin dove arriverà e la scuola come provvedimento ha preso solo in pieno quello che ha detto il DPCM, significa che le bambine devono stare con la mascherina tutto il tempo. Nessuno ha elevato la voce a livello di medico e dire guardate che c'è un'anomalia di fondo quando riguarda la salute dei bambini, hanno ragione i papà e le mamme a protestare contro questo provvedimento perché ci potrebbe essere un problema di salute, come ho detto poc'anzi, più avanti. Quindi adottiamo dei sistemi, mettiamoci in un tavolo con i medici, non i tecnici che non hanno nulla a che vedere con la salute dei bambini ma bensì un tavolo fatto dai medici, dai pediatri, di chi si occupa di questo e da lì portare fuori una soluzione che non gravi la salute dei bambini. Questa è la mia grande preoccupazione, per esempio ridurre l'orario scolastico, non si vuole chiudere, io sarei per la chiusura, se c'è un problema così grave che questo DPCM nasce e viene fatto dal governo centrale perché c'è in discussione la salute di tutti, benissimo, chiudiamo, è parziale la cosa, non sta andando così avanti qui in Sicilia o a Siracusa da noi, benissimo, ma facciamo un discorso quando riguarda la salute dei nostri figli, facciamo un orario ridotto, usiamo il buon senso soprattutto, in questo dico adesso mi rivolgo ai docenti, alle maestre, di capire che i bambini seduti 5 ore e mezzo con la mascherina, già io ho fastidio adesso alla respirazione, ma ci posso stare dietro, ho 50 anni, è diverso, una bambina che ci imponiamo di far questo, io vorrei, mi piacerebbe pensare che ci fosse buon senso di tutti i docenti ogni mezz'ora di dire usciamo un attimo fuori, abbassate la mascherina, manteniamo le distanze, cioè non essere completamente rigidi contro dei bambini indifesi che li porteremo dove per me li stiamo bruciando sul nascere, che ci saranno delle conseguenze gravissime, che purtroppo lo sta dicendo chi non fa questo mestiere, ma bensì sopportato di miei interventi che ho fatto e ho cercato di capire il problema con i medici e mi danno assolutamente ragione che più avanti ci saranno dei problemi gravissimi, che loro ancora sono sul formarsi, quando riguarda la via respiratoria, ancora è tutto molto collegato, vicino, quindi stiamo andando verso una strada che non sappiamo dove ci porterà, ancora una volta, questo mi rivolgo al governo centrale e la sensazione è che si va a tentoni, che si va così a casaccio, vediamo dove andiamo a arrivare, come si diceva, se la usana vorremmo andiamo a sbattere, ok, fin quando si faceva con noi, si è partito con gli anziani, poi con noi, poi con i ragazzi, adesso con i bambini, purtroppo è un problema che non è soltanto legato alla nostra provincia, ma bensì è legato un po' alla situazione generale di tutte le scuole d'Italia, noi facciamo appello questa mattina ai dirigenti, agli insegnanti, che penso, ahimè, comunque abbiano quella sensibilità, anche perché loro si trovano in classe tutte le sei ore insieme ai bambini, quindi sanno quali sono le esigenze dei bambini, facciamo appello a loro, visto che il governo in un certo senso non ci aiuta, aiutateci voi e cerchiamo una soluzione comune. Questa è la mia richiesta, la mia richiesta è assolutamente questa. Arianna, per concludere, tu in questo momento sei a casa, giusto? Non stai andando a scuola, ma ti dispiace questa cosa? Sì. Perché? Cosa vorresti fare? Vorrei andare a scuola invece di rimanere a casa. Ma e qual è la tua difficoltà a scuola? Perché non ci stai andando in questo momento? Perché con le mascherine, quindi non ci vado. Non riesci a vedere con gli occhiali, ti si appannano? Sì. In effetti, sai, hai un po' di ragione, perché in questo momento sto facendo io la stessa tua prova, mascherina e occhiale, mi si appannano tanto. Non ci si vede più nulla. Allora, noi ci auguriamo che, come te, anche tutti gli altri bambini che in questo momento sono costretti a stare a casa per gli svariati motivi, possono ritornare fra i banchi di scuola e, ahimè, ritornare alla normalità che tutti ormai ci speriamo. Se posso aggiungere un'ottima cosa. La mia preoccupazione è derivata dal fatto, come principale cosa, che non ho visto né a livello nazionale né a livello territoriale nostro, un tavolo fatto di pediatri o di medici che rispondessero a questo. che rispondessero a questo. Questo mi ha lasciato molto albito, perché... Ma sono tante le cose che rimangono, che ci fanno rimanere comunque. Trattare dei bambini così, come se fossero dei giocatori. Guardi, c'era stato anche promesso sette mesi fa che sarebbe andato tutto bene, ma siamo di nuovo qui. Siamo di nuovo qui. Ecco, siamo di nuovo qui. Io spero che tutto questo... Ma questa volta non accantare sul balcone. Io spero che tutto questo qua, ok, le problematiche che ci sono ci saranno sempre. Il nostro paese è fatto così. Ma io spero che non passi sotto banco questa protesta che sto facendo come genitore e spero che aderiscono altri genitori a più presto, perché più si è, meglio è. Per quanto riguarda la salute di questi bambini, perché questi sono dei selvatenai del futuro, di cui noi dobbiamo mettere dentro delle cose migliori, ma noi li stiamo bruciando già adesso. Abbiamo raccolto oggi questo richiamo, questo invito da parte del papà di Arianna, ma sono tanti anche genitori preoccupati di questa situazione e speriamo che qualcuno sia meno sordo e meno miope a questa situazione. Grazie ancora.